Abolizione dell'IMU sulla prima casa, privatizzazioni, lotta all'evasione fiscale. Sono tre delle undici proposte fatte ieri in un convegno a Roma dalla Federazione Agenti Immobiliari. Il presidente della FIAIP, Paolo Righi. Il senatore Giovanni Legnini del PD. Maurizio Gasparri del PDL. Noi siamo contrari come Popolo della Libertà alla introduzione di tasse patrimoniali di ogni tipo. Riteniamo che si debba guardare più alla rendita di un immobile che non ha il suo teorico valore e riteniamo che si debba cancellare l'IMU sulla prima casa. L'onorevole Mantini dell'Udc Gruppo Monti. Grazie a tutti.